E' stata sventata grazie alla polizia penitenziaria di Sernia l'evasione di un detenuto che doveva essere portato al carcere di Rimini. L'uomo era partito dalla casa circondariale di Santa Maria Capuavetere e durante il viaggio in superstrada ha chiesto agli agenti di poter fare una sosta in autogrill vicino a Sernia. Qui ha tentato di fuggire ma dopo un breve inseguimento sulla superstrada è stato fermato dalla polizia penitenziaria di Sernia. Agli agenti è arrivato l'elogio di Donato Capece, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria. E' solamente grazie a loro se è stato possibile sventare l'evasione. I nostri agenti non hanno esitato a mettere a rischio la propria vita per fermare il fuggitivo. Quanto accaduto ci deve far riflettere, ha denunciato Capece. I nostri agenti sono sotto organico, non retribuiti degnamente, con poca formazione e aggiornamento professionale, impiegati in servizi quotidiani ben oltre le 9 ore, con mezzi di trasporto dei detenuti inadatti a circolare per le strade del Paese.